Nuova fase di lavori in Viale del Sole per lo spostamento dell'elettrodotto di Terna, che consentirà l'avanzamento del cantiere di Anas per la variante alla SP46, cantiere che ha già subito numerosi stop and go negli anni. Pertanto dalle 21 di stasera fino alle 6 di domani, domenica 13, sarà sospesa la circolazione stradale in entrambe le direzioni lungo Viale del Sole, nel tratto compreso tra la rotatoria all'incrocio con strada delle Cattane e gli svincoli con la SR11 strada Padana verso Verona. Con gli stessi orari risulterà chiusa la circolazione anche una parte di via Fermi nel tratto di fronte alla Camera di Commercio. È prevista inoltre in orario diurno l'istituzione del senso unico alternato in via Fermi nel tratto da via Montale a via Soldà. In base all'andamento dei lavori potrebbero essere necessarie anche brevi chiusure al transito. Grazie a tutti.